L'eco bonus 110% è l'argomento del momento e in molti sono a chiedersi come sfruttare queste detrazioni fiscali. Ne parliamo oggi con Antonella Damiani, responsabile dell'ufficio marketing di Sidel, azienda leader nel settore dei serramenti di buon abitacolo. Antonella, cos'è l'eco bonus 110%? L'eco bonus 110% è una misura voluta con il decreto di lancio del 2020 dal governo vigente dell'anno scorso per incentivare lo sviluppo edilizio e quindi permettere di raggiungere quelli che sono gli obiettivi efficientemente energetico previsti anche a livello europeo di modo da ridurre l'inquinamento da parte soprattutto che gli edifici tutti i giorni causa il riscaldamento e il raffrescamento estivo provocano. Quindi è una misura atta a riqualificare gli edifici in modo da ridurre il loro consumo energetico. Efficientamento energetico sicuramente al centro dell'eco bonus 110%, ma chi ne può usufruire? Allora, ne usufruiscono tutti i proprietari di case singole o di condominio che possono riqualificare le loro abitazioni prevedendo la sostituzione di quegli elementi che più maggiormente impattano sul contenimento dei consumi energetici. Quindi la caldaia piuttosto che le pareti e quindi quando parlo di pareti parlo sia dal punto di vista dei muri e sia quindi pareti opache sia dal punto di vista dei serramenti che hanno sicuramente un forte impatto dal punto di vista della dispersione energetica. Quindi serramenti edifici e serramenti che hanno una capacità migliore di contenere il calore all'interno degli edifici aiutano sicuramente nel ridurre le dispersioni termiche. Che cosa significa detrazione al 110%? Allora, detrazione al 110% significa che il privato cittadino che decide di riqualificare il proprio edificio e quindi di valutare quanto può risparmiare inserendo appunto dei miglioramenti dal punto di vista energetico può godere di un ulteriore 10% da aggiungere a quella che è la spesa massima prevista appunto per la riqualificazione dell'edificio. Significa in pratica che tutto ciò che viene speso per riqualificare l'edificio viene rivalutato dallo Stato con un 10% in più che può essere portato sulla sua detrazione fiscale. L'azienda Sidel di Buonabitacolo come si è organizzata con questa particolare misura? Allora, noi siamo chiamati come parte in causa attiva sul discorso dell'eco bonus e quindi della riqualificazione energetica perché i serramenti hanno un impatto importante su quello che è la riduzione dei consumi energetici. Sicuramente nel caso del 110 il serramento è quello che viene definito un prodotto trainato trainato perché agli occhi della legge è necessario partire prima dal cappotto termico oppure dalla caldaia ma sicuramente l'impatto dal punto di vista dell'agevolazione è fortemente accentrato anche sugli infissi che contribuiscono in maniera notevole. Sidel sicuramente è attore in questa situazione perché interviene sia a sostegno del privato che vuole fare l'intervento sia attraverso lo sconto in fattura quindi noi siamo organizzati sia per fare direttamente lo sconto in fattura ma anche per assistere e dare un supporto sia documentale che tecnico a chi invece richiede a noi il supporto su tutta la pratica. Per maggiori informazioni come ci si può rivolgere ai vostri uffici? Beh, basta contattare direttamente i centralini, i contatti sia via email che via telefono della nostra azienda e automaticamente abbiamo dei commerciali interni e sia sul territorio che possono fornire una consulenza gratuita di primo impatto a chi volesse valutare appunto la misura.